ragazzi oggi volevo parlare di quella che secondo me è stata la puntata più bella di sword art online alicization e mi è piaciuta tantissimo uno perché si collega secondo me a quello che o al fenomeno che c'è stato riguardante goblin slayer la prima puntata che abbiamo già trattato sul canale quella puntata molto forte molto carica di emozioni e di pathos soprattutto legata alle scene che abbiamo visto sto parlando ovviamente delle scene sulla violenza quelle che ci sono state nella caverna la cave comunque tornando al discorso di sword art online allora diciamo che per quanto riguarda questa season sinceramente io sono abbastanza contento la sto seguendo molto bene ovviamente sto parlando dell'anime sono in pari con tutto fino al capitolo 12 che è quello che è uscito appunto questa settimana ma oggi faremo riferimento agli avvenimenti del capitolo 11 dell'episodio 11 il discorso è che fondamentalmente sta sviluppando una sorta di profondità narrativa importante e di maturità più che altro alicization stavo pensando proprio di etichettarlo come una delle belle season di sword art online una dicendo non so se la più bella perché deve ancora concludersi dicendo che comunque avrà una cosa come 40 mi pare capitoli il questo anime qui di questa stagione qua il fatto però che mi ha fatto pensare che fosse abbastanza interessante è che effettivamente la cgi è carina la narrazione interessante ma non è che mi ha mai tenuto lì col fiato diciamo per dire wow cosa succederà nella prossima puntata cioè è sempre stata una stagione abbastanza tranquilla che aveva comunque i suoi alti sui bassi ma di base niente di così strano voglio dire la guardi perché è sword art online l'aspetti perché è sword art online ma non è che ti lascia sempre col dire wow con l'attesa di vedere noi capitoli successivi questo però fino ad arrivare al capitolo 11 perché con il capitolo 12 volevo proprio vedere cosa stava succedendo visto che effettivamente si vedeva Alice tronando però all'episodio numero 11 c'è stato veramente un qualcosa di importante anche lì si è trattato il discorso della violenza sulle donne come vi ho già detto gli anime sono delle cose abbastanza mature sotto certi punti di vista quindi ok sono cartoni animati indirizzati a un pubblico giovane però non bisogna cercare di oddio se succede una cosa del genere cavolo basta 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 no c'è gli anime sono anche per persone mature quindi diciamo che se un anime è impostato in un modo non c'è da sorprendersi se poi dopo boom succedono cose di questo tipo posso capire comunque che ci possono essere delle osservazioni in merito perché effettivamente in sword art online che diciamo classificato comunque come anche anime sentimentale una sorta di cambio così brusco possa un attimino lasciarti spiazzato o spiazzata e con questo veramente sono d'accordo però non è che bisogna farsi una para gigantesca sul fatto che è successo e allora c'è non oddio non guarderò sword art online anzi lo guarderai secondo me a maggior ragione almeno io farei così è interessante il discorso che hanno ho voluto mantenere adesso comunque magari vi metterò delle scene qui per farvi capire il tutto non l'hanno censurato ed è questa la cosa fondamentale perché la scena della violenza lì è stata vabbè contestualizzata più che altro per metterti poi dopo il duello perché il duello di sword art online che c'è stato dopo tra kirito yujin e questi sorti di nobili che non valevano una cippa secca è stato abbastanza il fulcro del discorso capisci no il duello tra loro non la violenza che hanno fatto questi due nobili verso queste due ragazze perché per esempio in goblin slayer questo argomento si è trattato secondo me di più cioè si sono viste più cose più cose anche mature la maturità della scena in sword art online secondo me è stata adibita più che altro allo scontro e al tanto sangue che ne è venuto fuori con arti che venivano strappati e tante altre cose quindi dal mio punto di vista diciamo che ci sono rimasto sì ma sono rimasto sorpreso in positivo perché sword art online come vi ho sempre detto è sempre stato un anime molto kawaii un anime molto tranquillo ma se sono successe delle cose di questo tipo secondo me è tanto di guadagnato perché come detto gli anime sono comunque indirizzati a un pubblico giovane ma non c'è da sorprendersi se si possono prendere delle licenze poetiche abbastanza mature sotto certi punti di vista perché può essere che lo fanno e sinceramente non bisogna dargli digli su più che altro ripeto cosa mi aspetto col proseguimento di sword art online beh sinceramente mi aspetto comunque maturità sì ma sotto certi punti di vista abbastanza censurata non come è stato diciamo venuto fuori nel capitolo nell'episodio 11 scusatemi però se succederà tanto di guadagnato voglio dire cioè secondo me sarà comunque una cosa molto interessante ma non ci spero più di tanto perché comunque ci sono state anche tante critiche comunque vabbè non credo che si vogliano più mettere in mezzo sotto certi discorsi quindi al massimo ricensureranno le puntate che avranno già magari editato e magari tenute pronte per le prossime settimane tuttavia come ripeto sono abbastanza contento di come è andato avanti sword art online e del picco che ha raggiunto con l'episodio 11 di conseguenza anche l'episodio 12 è stato abbastanza interessante ma c'è stato diciamo secondo me più il pathos nell'11 se prima sword art online mi interessava 7 8 adesso mi interessa 9 per dirvi comunque ragazzi ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti io sono veramente curioso di sentire la vostra opinione perché qua tra di voi ci sono tantissimi esperti di anime animazioni comunque tutto quanto anche di sword art online quindi sono curioso di vedere anche l'opinione di chi ovviamente magari non è diverso da me quindi la può pensare in un altro modo argomentando dicendo i suoi punti di vista le sue idee siamo in democrazia ognuno può dire quello che vuole basta che ci sia del rispetto reciproco detto questo comunque ragazzi allora vi invito a dirmi cosa ne pensate da qui abogol è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao a tutti i bolidi